Oroscopo settimanale dall'11 al 17 gennaio 2021 Ariete Amore Questa non sarà una settimana particolarmente ricca di grandi novità in amore. Tutto dovrebbe filare piuttosto liscio nei rapporti, ma sicuramente bisognerà tenere gli occhi aperti rispetto a determinate situazioni. Forse dovreste riflettere un po' di più riguardo a certe questioni con il partner per evitare di commettere degli errori. Lavoro Attenzione ai progetti professionali perché probabilmente ci sarà bisogno di una maggiore cura. Dovrete guardare anche alle piccole cose per poter intraprendere l'obiettivo senza problemi. Ogni piccolo dettaglio ha sempre la sua importanza. Toro Amore In questi giorni sarete energici, anche se questo potrebbe costarvi qualche piccolo sforzo. Se si ha un partner al proprio fianco o una famiglia alle spalle, il discorso sarà più ampio. Bisognerà fare quindi attenzione e impegnarsi per raggiungere un equilibrio di coppia, una generale armonia che vi permetta di vivere al meglio la settimana. Lavoro L'energia non mancherà nemmeno sul posto di lavoro e probabilmente sarà il caso di sfruttare la situazione. In questo senso potrebbero esserci delle novità e magari dei cambiamenti in vista. Gemelli Amore In questi giorni l'umore sarà un po' a terra e anche le energie non vi faranno essere al vostro massimo. La cosa potrebbe scoraggiarvi, ma in amore tutto dovrebbe proseguire bene. Non ci saranno grandi novità sotto il punto di vista dei sentimenti di coppia, ma potrete godervi un bel equilibrio settimanale con il partner. Lavoro Dovrete ricercare un po' di forza per impegnarvi e raggiungere risultati gratificanti. Alcuni compiti non saranno troppo semplici e potreste non riuscire a terminare tutto quello che dovete fare. Cancro Amore Saranno giorni abbastanza pessimisti per le relazioni di coppia e l'amore in generale. Con il partner potrebbero esserci un po' di problemi e non riuscirete ad essere chiari nei vostri discorsi. Dovrete fare molta attenzione a come deciderete di porvi, ma soprattutto a quello che direte. L'atteggiamento giusto sarà un aspetto fondamentale. Lavoro Sul posto di lavoro la situazione è un po' più serena, ma anche qui sarà importante curare un po' di più la parola, i discorsi. Impegnarsi sempre e comunque è la base. Leone Amore In questa settimana del mese di gennaio farete un po' fatica a prendere posizione e forse deciderete di attendere ancora. Probabilmente questo sarà il giusto passo da fare perché la pazienza sarà importante. Meglio non correre troppo con i sentimenti e con i progetti di coppia con il partner. Questo vale soprattutto per quelle persone che si sono conosciute da poco tempo. Lavoro Se avete dei progetti professionali in mente dovrete ragionare bene prima di mettere in pratica tutte le idee e le energie possibili. La riflessione e la calma vi aiuteranno a non commettere errori. Vergine Amore La settimana proseguirà in maniera abbastanza tranquilla per le coppie, ma presto le cose cambieranno. A partire da sabato potrebbero esserci un po' di disagi con il vostro partner. Occhi aperti perché le discussioni saranno dietro l'angolo e potreste finire con il litigare seriamente. Se lo volete e ci tenete potrete facilmente risolvere. Lavoro Saranno giorni non troppo entusiasmanti perché non arriveranno grandi soddisfazioni e gratificazioni. Dovrete attendere un momento migliore per godervi finalmente il raggiungimento dei vostri obiettivi di lavoro. Bilancia Amore Ci saranno pensieri per la testa e preoccupazioni nell'aria. Il caos si farà sentire in questi giorni del primo mese dell'anno nuovo e voi potrete risentirne un po'. Potrebbe rivelarsi una settimana piuttosto complicata dove difficilmente troverete le forze per affrontare qualche piccolo ostacolo. Ogni cosa vi apparirà difficile e non avrete un grande ottimismo. Lavoro Le idee non saranno chiarissime e difficilmente sarete in grado di cogliere al volo le buone occasioni. Occhi aperti e più positività. Scorpione Amore Che bella questa nuova settimana del mese per i nati sotto questo segno che sono innamorati e che hanno una persona speciale al proprio fianco. Riuscirete a dedicare tempo e cura al rapporto con il partner. Non mancheranno le belle emozioni, la complicità e la passione di coppia. Saranno dei giorni tutti da godersi e vivere al massimo della felicità con la propria dolce metà. Lavoro L'umore sarà buono eppure in questi giorni sarete concentrati soprattutto sulla vostra sfera intima. Non per questo motivo dovrete sottovalutare o dimenticare gli impegni professionali. Sagittario Amore Poche energie per questo periodo del mese, tanto che il vostro umore sarà piuttosto basso. Deciderete di prendervi un po' di tempo per voi, per riflettere, per capire e trarre delle conclusioni. Vorrete vivere un po' in solitudine, ma sarà importante non trascurare il rapporto d'amore. Il vostro partner potrà soltanto aiutarvi a ritrovare la serenità. Lavoro Questa mancanza di forza e di ottimismo sicuramente non vi porterà grandi vantaggi sul lavoro. Poca concentrazione per questa settimana. Raggruppate le uniche energie positive che le stelle vi otterranno. Capricorno Amore Se siete impegnati in una relazione amorosa, questa è la settimana perfetta per godersi i sentimenti. Il rapporto con il partner sarà armonioso e pieno di complicità e passione. Saranno insomma dei giorni intensi per gli innamorati, ma pure perché ha fatto un nuovo incontro speciale da poco tempo. Vi capirete al volo con la persona che avete al vostro fianco. Lavoro Non aspettate di grosse novità per questo periodo dell'anno, ma l'umore non sarà affatto male e vi aiuterà ad affrontare sfide ed ostacoli. Acquario Amore In amore con il partner saranno dei giorni tranquilli e sereni. Non ci saranno cambiamenti che metteranno in crisi la coppia o entusiasmeranno in maniera particolare gli innamorati. Sicuramente sarà una settimana leggera, ma non per questo negativa. Potrete godervela senza problemi. Lavoro Con gli impegni e i progetti professionali le cose andranno benissimo. Se siete in cerca di un nuovo percorso lavorativo, le buone opportunità non mancheranno. Probabilmente avrete anche molti più compiti da svolgere, quindi attenzione. Pesci Amore Agirete molto seguendo il vostro istinto e difficilmente vi deluderà in questa settimana di gennaio. Con il partner le faccende di cuore andranno bene, saprete come muovervi. Non saranno giorni pieni di novità per i rapporti amorosi, eppure sarà un periodo tranquillo. A tratti vi sembrerà addirittura quasi piatto. Lavoro Avrete un certo fiuto per i progetti e per le opportunità professionali. Questo aspetto vi aiuterà veramente tanto ad impegnarvi sul posto di lavoro per raggiungere in maniera più concreta i vostri sogni nel cassetto. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.